Gopal era un uomo semplice. Era un grande amore devoto Sikh di Guru Are Unde e quinto Guru dei Sikh. Ha lavorato onestamente nel suo lavoro. Ha mantenuto una zona di stoccaggio. Ognuno si fidava di lui con la loro roba, e avrebbe conservarlo per loro. Una volta un uomo di nome Yamal Khan è venuto al suo luogo di deposito di lasciare 500 monete d'oro per la conservazione. Gopal era piuttosto affollato quel giorno e disse, oh, certo, basta lasciare qui, mi prenderò cura di lui. Ma nella confusione della giornata, si è dimenticato di scriverlo e di memorizzare le monete. Più tardi, Yamal Khan torna, ok Gopal, grazie per la memorizzazione la mia roba, mi piacebbe tornare ora. Gopal si guardò intorno per le monete del Yamal Khan, ma non trovò nulla. Sei sicuro è stato memorizzato le monete con me? Io non li vedo. Yamal Khan si arrabbiò, si stava proprio lì e mi ha detto che si sarebbe preso cura di mia roba. Che razza di idiota pensi che io? Così Gopal è andato a controllare di nuovo, ma lui ancora non ha trovato le monete. Kan non credo che stai mentendo, è solo che non vedo le monete, forse possiamo lavorare fuori qualcos'altro. Io lavorerò qualcos'altro fuori. Vi si mettono all'imperatore per aver rubato il mio denaro. Yamal Khan ha portato Gopal all'imperatore. L'imperatore sapeva che Gopal era un siche che non avrebbe mentito. Sapeva anche che Yamal Khan non avrebbe mentito neanche. Così ha avuto un'idea, prende una grande ciotola e riempirlo con l'olio. Accendere un fuoco sotto di essa e far bollire l'olio. Poi mettere una moneta con l'olio bollente. Entrambi si dovrà cercare di individuare la moneta da dentro la ciotola di olio bollente. Entrambi gli uomini erano scioccati. Gopal si andrà per primo. Prova e scegliere la moneta dall'olio caldo. Così Gopal incrociò le mani in preghiera. Guru, tu sei il mio protettore, si prende sempre cura di me quando ho bisogno. So che mi farà risparmiare ora. Grazie, mio amato Guru. Allungò la mano e ha cominciato a mettere nell'olio caldo brucia. La sua mano continuava a raggiungere e raggiungendo fino a che egli aveva tirato fuori con la moneta. Bravo! Disse l'imperatore. Guarda! La sua mano non si è fatto male anche se è bruciato a tutto. Yamal Khan ora tocca a te. Yamal Khan incrociò le mani in preghiera. Adratmir principale. Aiutami. Kavaya Abibullah Attar. Venuto a mia protezione. Shashar Fabuali Kalendar. Salvami. Ali Uyuri Data Gani Baksh. Dammi la mano. Farid Oddin Shakar Gani. Essere gentile con me e rivelare la tua grandezza. Dopo aver pregato alcuni santi ha raggiunto la sua mano nel piatto per cercare di ottenere la moneta in fondo. Ha appena sfiorato l'olio e gridò. Ov. Le mie dita. Ov. Ov. Fa male. Ha subito ha bruciato. La questione finì lì e tutti sono andati avanti con le loro vite. Qualche tempo dopo Gopal trovato monete di Yamal Khan in un angolo del suo edificio di stoccaggio. Si precipitò a dirgli, oh le monete, non ci posso credere, che erano lì per tutto il tempo. Yamal Khan ha detto, io non voglio più le monete, mi imbarazzo di fronti dell'imperatore. Si mantiene il denaro, ha detto Gopal, sono un Sikh del Guru, non posso prendere ciò che non è mio. Yamal Khan ha detto, ok va bene. Prendo i miei soldi indietro a una condizione. Voglio incontrare questo tuo Guru. Così Gopal ha Yamal Khan per soddisfare il Guru. Yamal ha chiesto, entrambi di noi sono stati essere onesti. Mi sono bruciato e non lo fece. Perché questo? Guru gli ha detto, quando Gopal ha fatto la sua preghiera, lo ha fatto con la fede totale. Quando hai pregato, è chiamato diverse persone santi, ma non è stato avere fede totale in una sola. Yamal Khan era stupito e il Guru conosceva i suoi pensieri, tu conosci i miei sentimenti interiori. È vero che è così che ho pregato. Entrambi gli uomini sentivano molto elevato essere in presenza del Guru. L'universo risponde alle nostre preghiere per lo stesso importo la sappiamo che lo farà. Una persona che prega con cuore puro, con tutto il loro essere e con una profonda attenzione della loro mente, vero che le persone preghiere verrà ad essere.